Di vedere, di vedere il tiro di Kolarov è da lontano, da quelle posizioni sono pochi i giocatori che possono calciare. Siviglia ha spostato a Mauri, poi Nedved, Molinaro, Nedved, c'è anche Tiago che si propone in attacco, Molinaro, il cross, scavalcato via quinta, ma c'è Marchionni e la palla finisce dentro per il vantaggio della Juventus all'Olimpico in casa della Lazio. 34esimo minuto, Lazio 0, Juventus 1. Ha avuto il tempo Marchionni di fermare la palla e di liberare il sinistro. Palla nell'angolino, forse c'è stata anche una deviazione. Juventus in vantaggio, rivediamo. Noi per me, nobody likes you when you're 23, and I'll show more of yours by TV shows. What the hell is ADD? My friends say I shit at my edge. What's my age again? What's my age again? Olimpio sono tutti! 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 Olimpio sono tutti!